RISPONDA, RISPONDA, BANITO Clipper e Tigliani L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA Ragazzi vi spiego un attimo che cazzo è successo Allora adesso non voglio allarmarvi troppo Però comunque Mi spiace perché altro perché stasera Stavamo a fare una bella live Era tutto preso bene Averosky aveva giftato 100 sub, porco di dio Stavamo andando a fare cose fighe E stavamo andando da colin Porco zio a fare la top live della serata Porca miseria proprio a chiudere in bellezza il content E invece Mi hanno un po' Sono rimasto un attimo sorpreso da Da un casino che è successo E' tragica la storia ma allo stesso tempo Probabilmente molti di voi si metteranno anche un po' a ridere Perché siete dei bastardi pezzi di merda Un po' figli di puttana E quindi so che Un po' una mezza lisettina ne scapperà Che cazzo ridete? Non ho manco iniziato a parlare Che cazzo voi state a ridere, porco dio Siete dei pezzi di merda, cazzo Manco ha iniziato, già ridete Ah, ridete, ridete Allora ragazzi Stavamo andando a prendere l'Uber Per andare da colin Uber mi chiede la conferma Del pagamento Io dico, va bene Non me la chiede mai Di solito l'Uber la conferma del pagamento L'altro che comunque Lo uso sempre Mi chiede la conferma Vado sull'app di Revolut Dai, 1800 euro che avevo Anche di più 1900 circa Quasi 1900 Che avevo sulla carta Mi sono rimasti 11 euro 11 Grazie a Dio Grazie a Dio c'erano pochi soldi Su quella carta Grazie a Dio Io tutti i soldi ce li ho Di Ocane in De Salvadanai Che non possono neanche Essere usati, capito Cioè non possono neanche Cioè a meno che non mi ha Che non ho pure il conto in banca Porco dio Fatemi toccare 8 volte le palle Malonna di una troia Che cazzo vi ridete Porco dio Ma è una cosa seria Ragazzi mi sono messo a piangere Porca puttana Poi grazie a Dio Mi sono fumato una spezia E mi sono tranquillizzato Vabbè Vedo che mi sono rimasti 11 euro sulla carta Vado a vedere A quel punto Vado a vedere le transazioni Ok Vado a vedere le transazioni Perché io poi Porco di Dio In questi giorni Manco ho aperto Revolut Perché Zio Parchetta Mi sono Mi sono Cioè ero via Ero qua Torino E porco dio Io lo apro ogni giorno Revolut Ok Apro ogni giorno La mia cazzo di carta Guardo sempre quanti cazzo di soldi Mi sono rimasti Quello che spendo I cazzi e mazzi In questi giorni ero a Torino Ma alla fine Lo stavo spendendo Quasi un cazzo Perché l'alloggio Me lo sono preso Cioè sto qua da pastina Il viaggio Ho preso il treno subito Era un 38 euro Poi ho comprato Due cose da mangiare Però alla fine poi Dead in verità Ci stavo offrendo Cioè ieri sera Ci ho offerto la cena Stasera pure Ci ho offerto una mezza cena Cioè insomma Quindi nel senso Stavo spendendo un cazzo qua No 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 vi spiego ragazzi Perché La storia Io la so tutta ormai Cioè io so tutto So tutto Abbiamo pure Cioè abbiamo pure Paradossalmente Cioè è brutto da dire Abbiamo Pure i dati Di questa persona Non tutti Ma nel senso Boss grazie a Dio Si sta mettendo a lavoro E ha già trovato anche Discrete informazioni Che possono essere importanti Praticamente Vedo tutte queste transazioni All the fans All the fans Tutte le transazioni Che mi ha fatto sto qua Erano di all the fans Io dico Io dico Ok Cos'è successo Mi ha rubato la carta No Vado ad aprire il mio profilo All the fans Perché ho un profilo All the fans Dove mi ero abbonato A un paio di cucciole Nel senso Io comunque avendo Mi invitato tanto All the fans No non è un troll Ragazzi ascoltatevi Parco dio Noi vi faccio vedere Tutte le transazioni Se volete vi faccio vedere tutto Io ho Io ho un profilo All the fans Oh ragazzi Siamo tutti un po' Oh le porci Ci sta Io ho un profilo all the fans Quando invitavo la mandona Alfi Non so Magari mi abbonavo All the fans Prima di invitarla Per dire Bella figona Giusto per capire anche Giusto per scopo Anche lavorativo Non solo scopo Malizioso Ragazzi Ok Luque 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 Tu hai inteso tutto Mi hanno Accato Il profilo Di all the fans Ok Mi sono entrati dentro Il profilo di all the fans E mi hanno speso Un sacco di soldi Tutti Tutti i soldi Che avevo sulla carta Su all the fans ragazzi Cioè sto maiale di merda A me si è speso E è andato a comprare Le foto a Dalila A Maria Sofia A Mary Siel A Borcodio A tutte Ma ci sono tipo 50 chat di all the fans Ragazzi Non sto Borcodio Non mi interessa Neanche le foto Cioè guarda Io che mi ho seguito La password Ho rimosso subito Le carte Soprattutto da all the fans Perché c'erano Le mie cazzo di carte Di credito sopra Tutte transazioni Tutte transazioni Tutte queste transazioni Me le ha fatte Guardate Ve le faccio vedere Anche da Revolut Me le ha fatte Ma quando Io ero in sleeping Ragazzi Quando io ero in sleeping Ok Cos'è successo Aspetta Perché la storia Si infittisce ancora di più Questo ragazzo qua Ha dato il telegram A Dalila Ok Bella Reghi Tra l'altro ha comprato Anche le foto da Greta Reghi Non sto scherzando Pure da Greta Che hanno comprato le foto Puoi chiedere Rimborso a Revolut Ti danno tutti i soldi No Chiederò rimborso ad all the fans Semplicemente Chiederò Adesso domani vado a far denuncia Domani mattina Infatti Alle 5.40 C'ho il treno Vado a tornare a Milano Vado a far denuncia E poi Abbiamo già mandato Un ticket ad all the fans E spero Perché da quello che so All the fans Io stavo con Daddy Michelle Poi quando mi è successo Tutto ciò Quindi grazie a Dio Anche loro M'hanno un attimo Informato sul tutto Prima dei 7 giorni Non possono Cioè i soldi I soldi di fans Tipo non arrivano Direttamente alla persona Ok Ehm No non è stata D'Aliva davvero Ha comprato a chiunque Ragazzi Aspetta adesso vi dico Cioè Chi è che ha comprato? A Maria Sofia A Lady as Dreamer A Merisiel Che gli ha scritto Cos'è che ha scritto a Merisiel? Aspetta Porco Dio Vediamo che cazzo Guarda che maia No Regalo questo piccolo set cosplay Sono c'è Ma cosa stavo tipo comprando? Sei pazzesca Un regalino me lo fai Te li ho sbloccati entrambi Cioè sto qua Andando proprio a scrivere Tutte le holy fans Con il mio account E usando i miei soldi Capito raga? A White Essence A Dalila Adesso è un vecchio Beh 12 maggio Linda Stabilini ragazzi Cioè Ha un botto di Ovvio che lo denuncio ragazzi Ci mancherebbe altro Porco Dio Cioè Ma ci mancherebbe altro Dio cane Ma io adesso Allora Boss Grazie a Dio È una persona che lavora Nella sicurezza informatica Quindi mi sta dando anche Un po' una mano A rintracciare sto ragazzo Perché comunque Abbiamo Su Telegram Abbiamo il suo Telegram Abbiamo i suoi accessi Su Holyfans Abbiamo L'IP Dei pagamenti Di Revolut Che ha fatto lui Dal mio Holyfans E appunto Ogni volta che spendo Con Revolut Non ti chiede la conferma Per ogni transazione Sì teoricamente Trust on one Boss Tu come la spieghi sta cosa Perché anche io Non me la spiego bro Le donazioni Su Holyfans Non richiedono Se la carta È stata confermata Non richiedono L'autorizzazione Perché è già stata salvata Semplicemente Vabbè E il discorso qual è Chiederò Farò denuncia E chiederò pure Oltre a farmi rimborsare I soldi da Holyfans Cioè voglio andare A porco Dio A chiedere soldi Anche come rimborso Per il danno morale Ricevuto da sto pezzo di merda Porco di Dio Che comunque C'è stata una situazione Che mi ha scosso Particolarmente E poi soprattutto Per il modo in cui Cioè ma che cazzo Ma bro Ma spendeli piuttosto Su H&M Su ASO Solo so Compra tu due vestiti Bro Non per farti 1800 euro di seghe Bro Ma quanti cazzo Di soldi Devi spende Ma porco Dio Ma infatti Ma vai su Telegram No ma Scherzo Non è vero Non è vero Sul Telegram Che l'hai Il legale Si fa revenge Porno E tutto quanto Però Per dire C'è stata tutta Sesta sbatta Per dire Che l'hai Trovare il conto Trovare la carta C'è nel senso Capito Ma non potevo usarla Su altri siti La carta No Nick Perché sto qua Mi ha chiarato Cioè mi è entrato Su AllDefense Almeno Porco Dio Spero Mi è entrato Su AllDefense Sì la mail La mail è pulita La mail è pulita Ok E ma non lo so Boss ha fatto Tutte mille ricerche Infatti ho staccato subito Io mi sono un po' impazzito Ho chiamato Boss Grazie a Dio Boss Bisogna fargli una statua Porco Dio A sto ragazzo Ma aveva una password facile No non aveva una password Che teoricamente Nessuno Neanche chi mi conosce Può Tra virgolette sapere No Boss si può dire Quella cosa che mi hai detto Lì Delle password Sì regà Non era una password Brut forzabile Era semplicemente Stata Trovata in dei data breach E molto probabilmente Gli è stata venduta Vabbè non diciamo Magari evitiamo di informare La gente di queste merdate Parco Dio Vaffanculo La polizia postale dove sta Parca madonna Tutte queste transazioni Tra l'altro Sono state fatte A partire dal 5 agosto Mentre io ero in sleeping O in live Cioè il 5 agosto Io stavo in sleeping E che dovevo fare La live quella dove Eddie, Steve, Mikey Che i nomi volevano donare E sto qua Il 5 agosto Porco Dio Dalle 14.06 Fino alle 17.26 Proprio io Quando mi sono svegliato Nella sleeping Porca di una madonna Impestata No mi sono svegliato Alle 6 in verità Alle 6 a un quarto Mi ha speso 1200 euro in un giorno 1200 euro in un giorno Di Dio Di ogni fan Guardate Cioè raga Mentre ero in sleeping Il 5 agosto Io non avevo aperto Neanche Revolut Perché porco Dio Poi ero partito per Torino Cioè neanche avevo aperto Revolut Porco Dio Infatti Caso strano Io apro Revolut sempre Dio cani Sti giorni non avevo aperto Revolut Vedete Tipo lì c'è UC Italia Spa Che ero andato al cinema Barbie Trenitalia Blablabla E qua tutte le transazioni Di OnlyFans Raga Tutte le transazioni Di OnlyFans Porco Dio Cioè Porca Madonna Cioè raga Dio cane È stato stupido in realtà Perché si è collegato Inizialmente con una VPN Poi si è dimenticato Poi si è dimenticato Di non essere più in VPN Ha fatto l'autologin E da lì è rimasto l'accesso Ha fatto la pulizia dei login Ma si è dimenticato che le mail Che arrivano da Red Da OnlyFans Contengono l'IP della persona Quindi è stato incurato Esattamente Come hanno spiegato Bossa Grazie a Dio Non abbiamo beccato Un grande hacker Informatico Fortissimo Abbiamo beccato Magari un ragazzo Forse un po' Inesperto Nel settore Oppure Non lo so Quindi è un cazzo Non lo so Però 1800 euro ragazzi Per porco Dio Non lo so Magari O dovrà assegarsi un sacco O è uno di quelli Che porco Dio Poi rivende Tutte queste cose qua Sul Telegram No a terze parti Non lo so Ragazzi Non sappiamo ancora Chi sia Ma è me Ma a me non mi interessa Neanche il resto Stare qua a fare Cioè oddio Mi ha creato comunque Una roba Un fastidio bello grande Porco Dio Cioè mi ha creato Un fastidio bello grande Di Okane Cioè Io cambierò una cosa Voglio capire un attimo Voglio concentrarmi Sul fatto che Questi soldi Mi devono tornare Ma teoricamente Boss dice Che al 90% Dovrebbero tornare No? Sì 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 Già Revolut ha già bloccato Dei pagamenti Ok VolliFans domani Deve Deve verificare Però già Già quelli di Revolut Hanno ingaggiato Il team Che Va a verificare Questi pagamenti qua Quindi appena vedono Che non sono stati fatti Effettivamente da lui O comunque Con una denuncia in mano Che non hanno i soldi indietro Non fatevi Reseghi sull'Ifans Altro Pastina Ehi un attimo Non voglio mettere Non voglio mettere In croce nessuno Spiegami un attimo Posso parlare di quella Questa cosa E questo carding consiste In entrare in account Di persone Con una carta collegata E creare Tanti gift card Da 100 dollari Sì perché poi Tra l'altro Non è che mi ha comprato Cioè tipo Mi ha comprato Tipo delle Delle gift card Appunto Perché io ho ancora Tipo 48 dollari Qua su Allifans Se ho portavoglio 48 dollari C'ho ancora sopra Capito? Tutti come un qualcosa Non c'è Passi tanto Siamo pieni Porco Dio Nel senso Che altro dobbiamo comprarci C'ho C'ho tutta Allifans Italia Porco Dio E c'è Della gente Che appunto Card Queste card Sullifans E poi si abbona A dei canali fake Gesite da loro Da cui poi ritieni I soldi No però Beh questo non era Un canale fake Questo non era Un canale fake Quindi in questo caso Mi ho usato per altre robe Però si può fare Qualcuno fa sta roba Penso che questo Comunque non fosse Il mio caso Speriamo di no Cazzo Nel senso basta Adesso Hello Clochard